Ok, abbiamo visto la volta scorsa il concetto di limite, l'abbiamo introdotto e oggi lo focalizziamo un pochino meglio. Abbiamo visto in particolare cosa significa l'espressione, dire che il limite della funzione f di x per x che tende a x con 0 vale l, con x con 0 ed l e entrambi numeri reali. Questa espressione abbiamo visto che si può interpretare o descrivere dicendo che la funzione f di x approssima il numero l ogni qualvolta x approssima il numero x con 0. Con questa espressione, questa freccetta traduce in simboli il termine approssima oppure si può dire anche tende a anche questo abbiamo visto a suo tempo che il tende a o approssima significa più precisamente dire che f di x appartiene ad un intorno di l l è il centro dell'intorno e poi scelgo il raggio dell'intorno quindi scelgo un numero y maggiore di 0, un numero qualsiasi che diventa il raggio dell'intorno quindi dire che f di x appartiene a un intorno di l a un qualunque intorno di l si traduce nel fatto che la differenza tra f di x è il valore di l il valore assoluto è più piccola di epsilon dove questo è il centro dell'intorno e questo è il raggio dal punto di vista grafico se preferite fosse più efficace immaginiamo quindi la nostra funzione fatta in questo modo qui abbiamo gli assi cartesiani questo è x e questo è y immaginate la nostra funzione facciamo la cosa semplice immaginiamo che sia una retta ok e supponiamo che l cada qui in questo punto cade il nostro limite l per cui se considero un intorno mettiamolo un po' più in vera ecco di l di raggio epsilon qui l'estremo superiore sarà l più epsilon e l'estremo inferiore l meno epsilon tutta questa zona è all'intorno di l che abbiamo scelto la corrispondente il valore per l'asse delle delle superiore della x immaginate questo quindi si riflette immediatamente in un intervallo quindi un intorno per la x dove se l è questo numero fatemelo tratteggiare avremo x con 0 centro dell'intorno di x e qui avremo un x con 0 meno delta e x con 0 più delta quindi quando x appartiene a un intorno di x con 0 di dato raggio corrispondentemente la f di x appartiene a un intorno di l di dato raggio quindi forse appunto il grafico vi è utile quindi scelgo un intorno di l e determino quindi individuo se preferite calcolo l'intorno di x con 0 in modo tale che qualunque x appartenga all'intorno di x con 0 di raggio delta al più escluso x con 0 abbiamo visto l'altra volta che non è detto che la funzione esiste di x con 0 allora le corrispondente f di x appartengono all'intorno di l di raggio y cioè detto in termini di diseguaglianza questa si traduce in x meno x con 0 minore di delta per queste y qualunque x abbia queste caratteristiche la corrispondente f di x differisce da l per meno di y e ripeto scelgo y e determino il delta o se preferite calcolo delta ok qui si può aggiungere anche la specifica che questo deve essere maggiore di 0 questo maggiore di 0 corrisponde ad escludere x con 0 perché non è detto che la funzione per forza di cose esiste in x con 0 come abbiamo visto la volta scorsa con il denominatore che si annullava facciamo un esempio semplice in realtà ripetiamo quello dell'altra volta immaginate appunto che la nostra funzione sia una retta f di x una funzione lineare cioè qui il grafico è una retta quindi per esempio f di x che vale 2x meno 5 andiamo a calcolare il limite per x che tende che ne so a 1 di f di x qui questa funzione non ha problemi non ha dominio questa funzione non ha dominio che è tutto r quindi la calcolo da per tutto per cui se x approssima a 1 vorrà dire che f di x approssima il corrispondente valore quindi 2 volte 1 meno 5 che fa meno 3 ok quindi qui applichiamo adesso la definizione che abbiamo appena visto di limite quindi scelgo epsilon quindi qualunque epsilon positivo scelgo vuol dire che sono libero di scegliere basta un valore qualsiasi che è il nostro raggio dell'intorno e quindi determino l'intorno di meno 3 di raggio epsilon questo sarebbe il valore di l valore del limite quindi f di x appartiene a questo intorno meno 3 di raggio epsilon tutte le volte che la sua differenza rispetto a meno 3 è più in valore assoluto è più piccola di epsilon e sarebbe nel nostro grafico questo intervallo qui questo segnato in verde vediamo cosa significa questo in termini di x ci andiamo a risolvere questa disequazione ma faccio altro che sostituire la funzione a questa espressione 2x meno 5 quindi scrivo 2x meno 5 meno meno 3 in valore assoluto più piccolo di epsilon qui i due meni si cancellano ho 2x meno 5 più 3 quindi 2x questo fa meno 2 qui posso raccogliere un 2 divido tutto per 2 mi rimane x meno 1 all'interno del valore assoluto minore di epsilon mezzi ecco che la disequazione è risolta in questo intorno questo mi definisce un intorno di x con 0 che vale 1 questo lo vedo da qua di raggio delta che vale epsilon mezzi questo lo vedo da qua ricordate che l'intorno è x meno x con 0 minore di delta quindi confronto queste due scritte questa con questa ed educo sia quanto vale sia x con 0 che delta qui dopo il meno c'è 1 quindi x con 0 vale 1 e qui a destra del minore c'è epsilon mezzi quindi epsilon mezzi è delta e che mi conferma perché qui sotto c'è proprio 1 nel limite quindi qui ho x con 0 e qui ho l quindi se verifico che f di x approssima meno 3 quando x approssima 1 la scrittura del limite è verificata qui in questo esempio in realtà abbiamo visto anche se un po' di corsa se volete il concetto di calcolo e di verifica del limite ok possiamo anche generalizzarlo anzi forse conviene in generale se la mia funzione y uguale a f di x quindi se è lineare cioè è del tipo f di x uguale a da x più b o se preferite mx più q se vogliamo parlare di retta ma non è importante allora dire che il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale l ok è facile verificare che l si calcola semplicemente sostituendo x con 0 cioè vale a x con 0 più b quindi se ho una funzione lineare è sufficiente per calcolare il limite qualunque sia x con 0 calcolare il corrispondente valore del limite semplicemente sostituendolo facciamo la verifica scegliamo un qualunque y positivo e andiamo a impostare la disequazione f di x meno il valore del limite minore di y quindi determiniamo l'intorno di L di raggio y qui anche qui basta sostituire che abbiamo a x con 0 più b meno e scusatelo qui non c'è la x non c'è lo 0 f di x e a x più b meno il valore del limite che è a y 0 più b tutto minore di y tolgo le parentesi semplifico i due b che si cancellano più b e meno b fa 0 raccolgo a e se a è diverso da 0 posso dividere per a quindi ottengo x meno x con 0 minore di y fratto il valore su di a che è il nostro delta in questo caso quindi ottengo un intorno di x con 0 quindi x appartiene a un intorno di x con 0 di raggio delta che vale y fratto a quindi scelgo delta per ogni y determino delta come y fratto a con a diverso da 0 e quindi il limite è verificato attenzione che succede se a è nullo allora se a è nullo la nostra funzione diventa uguale a b perché ax va via è chiaro che in quel caso la funzione è una funzione costante cioè se qui ho la x qui c'è y f di x uguale a b è una retta orizzontale ed è chiaro che il limite per x che tende a un qualsiasi x con 0 di la funzione b costante vale è sempre b quindi qualunque sia x con 0 il corrispondente y è sempre b c'è una domanda potrebbe andare un po' più piano certo ok ripeto allora abbiamo visto che se ha una funzione lineare cioè se la presento come una retta quindi una funzione di primo grado del tipo ax più b allora per calcolare il limite è sufficiente sostituire al posto di x il valore di x con 0 verifichiamo che questo rispetta la definizione di limiti che abbiamo appena visto quindi scegliamo un intorno di questo numero di raggio y qualsiasi basta che sia positivo impostiamo questa disequazione che traduce il fatto che f di x approssima l cioè f di x la y non si trova in un intorno di l di raggio y andiamo a vedere per quali x questo succede quindi sostituisco la funzione e il valore del limite la funzione vale eccola la funzione vale ax più b il limite l vale ax con 0 più b come abbiamo visto prima qui non faccio altro che togliere le parentesi quindi cambio il segno di h con 0 di b semplifico le due b e mi ritrovo con il valore assoluto di a per x meno x con 0 il valore assoluto più piccolo di y se a non è nullo posso dividere a destra e a sinistra per a per il valore assoluto di a per essere più preciso e quindi a sinistra a mi si semplifica rimane il valore assoluto di x meno x con 0 a delta a destra e y viene diviso per il valore assoluto di a perché il valore assoluto beh perché a è dentro il valore assoluto e dividendo per il valore assoluto non devo cambiare il segno o la disequazione perché sono sicuro che questo numero è positivo e quindi alla fine mi ritrovo con questa espressione che mi dice che la funzione approssima l quando x approssima x con 0 cioè x si trova in un intorno centrato in x con 0 di raggio y fratto a che è il nostro delta quindi conoscendo y trovo delta per cui rispetto la definizione di limite e quindi se torniamo indietro al nostro grafico dov'era eccolo qui scelgo appunto l'intorno di l e non faccio altro che proiettare i limiti gli estremi superiori e inferiori sull'asse delle x attraverso la retta e quindi determino qual è l'intorno di x con 0 che verifica la scrittura la nostra relazione di limite appena data ok questo cosa significa in termini pratici applicativi beh andiamo qua sotto vediamo eccolo qui se per esempio abbiamo questa funzione che ne so 2x meno 3 e voglio il limite per x che tende a 5 di f di x cioè il limite per x che tende a 5 di 2x meno 3 per colare questo limite è semplice è sufficiente sostituire 5 a x varrà 2 volte 5 meno 3 quindi 7 questo tipo di funzioni in generale formano una classe molto importante di funzioni cioè quelle per le quali calcolare il limite per x che tende a x con 0 della funzione significa semplicemente sostituire x con 0 cioè fare f di x con 0 quelle per cui questa scrittura è valida non tutte sono così attenzione si chiamano funzioni continue se una funzione in un determinato punto x con 0 ha questa proprietà cioè il fatto che il suo limite per x che tende a x con 0 è proprio uguale al valore della funzione in quel punto allora la funzione si dice continua è chiaro che per quanto abbiamo appena visto una funzione lineare cioè f di x scritta in questo modo a x più b questa è continua in tutto r è continua in tutto l'asse reale domande potrebbe rispiegare l'esercizio certo torniamo torniamo qui questo esercizio benissimo qui c'è un esempio di funzione lineare cioè di funzione che ha come grafico una retta in questo caso se la confrontiamo con quella di prima questa dov'era ax più b qui a vale 2 e b vale meno 3 ok se preferite il coefficiente angolare m e 2 e q e meno 3 abbiamo appena visto che per calcolare il limite di questo tipo di funzione per un qualunque x con 0 è sufficiente sostituire al valore di x quello che c'è qui sotto dopo la freccetta qui quello che c'è qui sotto lo chiamiamo x con 0 mentre questo è l il valore del limite lo trovo semplicemente scrivendo 2x meno 3 quando x vale 5 quindi 2 volte 5 meno 3 2 per 5 fa 10 meno 3 è 7 quindi il limite è 7 ok per calcolare il limite è sufficiente sostituire x niente di più facile quando questo succede per tutte le funzioni per le quali è sufficiente sostituire x con 0 a x per calcolare il limite queste funzioni assumono questo nome sono funzioni che si dicono continue in x con 0 per quanto abbiamo appena visto la funzione lineare è continua in tutto r che è il suo dominio quindi questo tipo di funzione è continua su tutto r cioè posso calcolare il limite per x che tende a un valore qualsiasi e quel limite sarà sempre uguale a quello che ottengo sostituendo nella scrittura della funzione il valore di x con 0 a cui tende il limite ok non tutte le funzioni sono sempre continue ma attenzione per esempio che ne so abbiamo visto la volta scorsa attenzione ricordate abbiamo f di x che era x la seconda meno 4 fratto x meno 2 qui il dominio di questa funzione era tutti gli x reali tranne i due quindi questa funzione non è continua in x con 0 che vale 2 perché? perché il 2 annulla il denominatore tuttavia il limite esiste il limite per x che tende a 2 di x alla seconda meno 4 fratto x meno 2 esiste e vale 4 però non posso semplicemente calcolare il limite sostituendo 2 alla x perché avrei 0 diviso 0 quindi questa funzione ha il limite finito per x che tende a 2 ma non è continua è continua in tutti gli altri punti del suo dominio ma non in 2 che qui x con 0 non appartiene al dominio della funzione prego volevo chiedere io perché non ho capito quelli x 2 si si questo era un esempio per mostrare che il limite esiste anche se la funzione in 2 non esiste qui l'avevamo calcolato semplicemente se vi ricordate scomponendo i fattori x alla seconda meno 4 ok e in tutti i punti vicini a 2 ma diversi da 2 ripeto il calcolo non c'è problema no no sì ma non ho capito se il limite lo sceglie se lei sì sì è un esempio qui al posto di 2 posso mettere qualsiasi cosa ovviamente se metto qualsiasi altra cosa il limite cambia ok prego attenzione introduciamo questo nuovo termine se calcoliamo il limite per x che tende a x con 0 di f di x se questo è un numero reale come nel caso delle funzioni continue si dice che f di x converge a l in x con 0 oppure f di x è convergente quando una funzione ammette il limite finito si dice che converge o che è convergente ok non tutte le funzioni sono convergenti però prima di passare a quelle che non convergono volevo proporvi un altro esempio ditemi se siamo pronti immaginiamo anzi torniamo un attimo indietro quando abbiamo visto l'esempio della funzione lineare torniamo il grafico della retta eccolo qua abbiamo visto che la funzione sta in un intorno appartiene a un intorno di l di raggio y se x appartiene a un intorno di x con 0 però l'intorno è circolare cioè contiene punti sia a destra che a sinistra di x con 0 non sempre è così cioè non sempre posso far approssimare x a x con 0 sia per valori in eccesso che per valori in difetto vediamo un esempio più semplice immaginate di avere questa funzione attenzione attenzione supponete che f di x sia uguale alla radice di x in questo caso il dominio della funzione è dato da tutti i numeri reali che rendono calcolabile la funzione quindi deve essere x maggiore o uguale a 0 la radice di 0 fa 0 va bene quindi al posto di x non posso mettere i numeri negativi il grafico della funzione che in realtà è una parabola rovesciata è fatto in questo modo qui c'è la x qui c'è la y il nostro grafico è fatto come disegnare in blu è fatto in questo modo quindi ho il dominio della funzione a destra dello 0 immaginate che mi interessi sapere il limite per x che tende a 0 di radice di x è chiaro che qui posso costruire un intorno di 0 ma solo per valori in eccesso a 0 posso far intendere x con 0 a 0 solo solo da destra nel qual caso il puntolino è sull'asse sul grafico nel qual caso la f di x tenderà a 0 ma sempre da destra in valori in eccesso quindi quindi nel nostro caso x tende a 0 per valori in eccesso a 0 cioè x appartiene a un intorno destro di 0 cioè x appartiene a 0 e delta diciamo in questo caso parlo di limite destro e scrivo x che tende a 0 col più in alto questo più indica valori in eccesso quindi se in generale x tende a x con 0 da destra lo 0 è compreso nel limite sì certo perché in questo caso il limite destro significa che è un limite in cui il centro appartiene al coso non è detto che la funzione esiste in 0 ok in quel caso togliamo lo 0 però l'intorno destro è un intorno che include il centro in questo c'è il centro l'estremo inferiore quindi se x tende a x con 0 da destra significa che x appartiene a un intervallo fatto in questo modo x con 0 più delta al limite al limite togliendo scusate qui questo lo cancello togliendo x con 0 se la funzione in x con 0 non esiste analogamente ho il limite sinistro se x se x tende a x con 0 per valori in difetto cioè da sinistra allora scriverò x che tende a x con 0 col meno in alto e quindi avrò un limite sinistra quindi in questo caso x appartiene a x con 0 meno delta x con 0 al limite tolto x con 0 se necessario ok quindi nel caso dell'esempio di prima avremo che il limite per x che tende a 0 da destra di radice di x vale 0 in altri esempi se avessi una funzione f di x uguale che ne so a radice di 3 meno x qui il dominio della funzione è fatto da tutti i numeri reali più piccoli di 3 e quindi se voglio andare a esaminare il grafico è fatto in questo modo qui ho 1 2 3 il grafico è fatto in blu ecco è fatto così e no non è una retta ma è una curva ecco e quindi posso andare a esaminare il limite per x che tende a 3 da sinistra di radice di 3 meno x e il limite è 0 basta sostituire 3 a x sarebbe scorretto scrivere x che tende a 3 e basta ok perché non quando dico che x tende a un certo x con zario intendo sia da sopra che da sotto invece in questo caso per questa funzione posso fare solo il limite sinistro questo è un limite sinistro mentre il limite destro non esiste non posso calcolarlo perché non c'è nessun intorno destro di 3 dove posso calcolare la funzione analogamente a prima nel caso di radice di x il limite è solo destro perché non c'è nessuno intorno sinistro di 0 dove posso calcolare la radice di x prego perché in questo caso approssimo nella funzione radice di 3 meno x x può approssimare 3 fatemi segnare in verde solo per valori in difetto a 3 solo in questo caso ho un corrispondente valore di y per valori in eccesso a 3 a destra di 3 non c'è nessun nessun punto dove posso calcolare la funzione dato che il dominio è tutto i numeri reali ma più piccoli di 3 a destra di 3 non c'è il grafico la funzione non esiste quindi qui posso calcolare solo il limite sinistro il limite destro non esiste cioè fatemelo scrivere più esattamente il limite sinistro vale 3 non esiste il limite destro esisterebbe esisterebbe x fosse un numero complesso ma non è il caso nostro in ambito reale questo limite non esiste perché non posso calcolare la funzione in un intorno destro di 3 ok vuol dire che per oggi possiamo fermarci qui la prossima volta vediamo che cosa succede quando una funzione non converge in un punto ok ok ok